oggi abbiamo clizia la sfidinzia del canavese e ai piedi porta delle vans modello era color rosa le porta coi lacci per ovvie ragioni in quanto siamo in moto ha una t-shirt di el charro bellissimo colore bianco candido dei raiban modello aviator tipici di top gun maverick sulle spalle abbiamo un invicta mini sac a strisce bianche e blu e un casco made in italy della cgm modello jet un saluto a tutte le sfidinzia